Bentornati diavoletti e bentornate diavolette qui su LR Channel. Ancora una volta parleremo di YouTube Italia, la community, e di tutte quelle polemiche che girano intorno alle collaborazioni, a quanto guadagnano gli YouTuber, eccetera, eccetera, eccetera. Vi racconterò anche un episodio in particolar modo per farvi capire esattamente che cosa significa insomma collaborare tra YouTube, almeno dal mio punto di vista ovviamente, e come normalmente si possono intraprendere queste collaborazioni e con chi. Se siete interessati a fare qualche riflessione e a sapere qualcosa di più a proposito di questo argomento, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di LR Channel. Come al solito vi mando un mega bacio e vi aspetto dopo la sigla. Ok, allora ancora una volta parliamo di YouTube Italia, delle polemiche che ci sono sulle collaborazioni, canali piccoli, canali grandi, sponsorizzazioni e quant'altro, insomma un purpurri di cose. Io ho fatto parecchie riflessioni anche grazie ai vostri commenti sull'altro mio video che vi lascio comunque nelle schede, perché ho capito che è un argomento molto toccante, cioè comunque che va a toccare molti nodi, non solo tra chi fa YouTube, quindi tra chi crea, tra i creators dei video che lavorano su YouTube, ma anche semplicemente tra chi guarda YouTube e vuole sapere se si deve sentire tranquillo a guardare un video, a seguire una certa YouTuber, piuttosto che invece meno tranquillo perché magari quella YouTuber o quello YouTuber hanno dei secondi fini nel proporre determinate cose all'interno dei propri video. Allora io vi dico quello che penso io e in questo video ve lo dirò veramente senza peli sulla lingua, vi racconterò casistiche personali e sottolineo personali perché come qualcuno mi ha detto nell'altro video non è solo il mio ad essere un canale pulito in rete, ce ne sono parecchi di canali puliti, ma non sta a me dirlo, cioè nel senso io parlo per me, per la mia esperienza e per il mio canale. Ovviamente vi do gli strumenti per capire se qualcuno vi sta raggirando oppure no e nel momento in cui voi utilizzate questi strumenti per capire se effettivamente quello che vi viene proposto è la verità oppure se c'è un secondo fine, un fine nascosto, sarete voi stessi a giudicare se un canale è pulito oppure non lo è. Quindi non voglio parlare di altri, voglio parlare di quello che è l'esperienza diretta sulla quale io posso mettere la mano sul fuoco e della quale vi posso dare tutte le motivazioni. È ovvio che io non posso mai e non potrò mai parlare per qualcun altro o per altri canali. Questo lo dico perché spesso e volentieri si tende, e questo lo facciamo un po' tutti, ma c'è chi lo fa di più e c'è chi lo fa di meno, c'è chi si è tolto il vizio dopo aver capito che lo faceva anche lui, si tende a riflettere sugli altri quello che siamo noi e quello che sono i nostri di intenti. Vi faccio un esempio. Qualche tempo fa, soprattutto fino a qualche mese fa, ricevevo spesso delle mail di altri youtuber che mi chiedevano di collaborare. Al di là del fatto che io decidessi di collaborare o meno, ultimamente non sto facendo grandi collaborazioni, anche perché nel momento in cui mi fa piacere sponsorizzare un canale lo dico punto e basta. Nel momento in cui voglio collaborare con qualcuno deve esserci una motivazione che vada oltre al semplice, diciamo così, scambio di video, di reciprocità. Una persona in particolare che mi è rimasta piuttosto impressa, allora una persona che non sapevo nemmeno chi fosse fino a quel momento lì, quindi una persona nuova con cui non avevo confidenze, che era la prima volta che mi scriveva un'email, mi contatta e mi scrive all'interno del fatto che appunto voleva fare un video in collaborazione con me Tanto parliamoci chiaro, siamo qui tutti per monetizzare. Allora, può anche essere vero che giustamente nel momento in cui tu ti impegni per realizzare dei video e pubblicarli sul tubo, per cui ti impegni come creators, ovvero ti impegni a cercare l'argomento, ti impegni a creare il filo logico del tuo video, ti impegni a registrare il tuo video, investi anche tanti soldini in attrezzature e quant'altro, investi del tempo per registrare il video, montarlo, può sprodurlo, pubblicarlo e quant'altro. È vero che ti fa piacere, cioè ti fa piacere, magari si rende addirittura necessario il fatto che ci sia un ritorno di tipo economico, perché se no, giustamente come ci vivi, cioè se tu impegni il tuo tempo in quel modo, non puoi impegnarlo a lavorare in altri campi. Per cui, dando per assodato che comunque a tutti fa piacere ricevere qualcosa in cambio per qualcosa che fanno, essere gratificati, però ragazzi non è un buon modo di proporsi quando si parla ad un altro canale dare per scontato che l'altro canale abbia lo stesso obiettivo che avete voi, perché magari l'altro canale, l'altro youtuber è sul tubo per altri motivi. A me questa cosa ha dato molto fastidio, ve lo dico proprio chiaro, e infatti questa persona, nonostante io ritenga che sia una persona molto in buona fede, che quindi l'abbia fatto senza troppo pensarci, però a me ha dato molto fastidio, perché essere schietti ed essere veri non significa dire all'altro quello che l'altro vuole, significa dire all'altro quello che tu vuoi. Quindi se vi dovete proporre per fare una collaborazione, non dite all'altro tanto anche tu vuoi quello che voglio io. Voi che ne sapete? Anche se siete in confidenza, ma che ne sapete se quell'altro, se l'obiettivo dell'altra persona magari è diverso dal vostro? O anche se fosse uguale, ma non è comunque piacevole vedere una persona che presume, che si propone con la presunzione di sapere cosa volete voi. Cioè non è un biglietto da visita corretto, non è un biglietto da visita che vi porta avanti, anzi metterà un freno, perché anche una persona che come me cerca sempre di mettersi nei panni degli altri e riconosce magari il buon intento di un'altra persona, però gli dà fastidio. A me è dato veramente molto fastidio, perché come ti permetti io non ti conosco, come ti permetti tu di venirmi a dire cosa voglio io dal mio canale. Per me è una cosa inconcepibile ragazzi, non lo so, forse sono l'unica, fatemelo sapere nei commenti, ma per me che uno mi venga a dire che cosa voglio raggiungere io nella mia vita con un certo mezzo, paragonandosi al proprio, per me è una roba assurda. E quindi uno dei motivi per cui questa collaborazione non ha mai avuto luogo e probabilmente non avrà mai luogo è proprio perché propostami in quei termini a me non sta bene, perché vuol dire che siamo proprio su due piani completamente distanti. Probabilmente il motivo per cui questa persona mi ha proposto la collaborazione in quei termini è perché io sono molto sincera e sono molto schietta nei video, ma essere schietti non significa appunto dire agli altri quello che gli altri vogliono, quello vuol dire essere presuntuosi, non schietti. Essere schietti significa dire agli altri quello che tu vuoi. Quando io vado a chiedere le collaborazioni e vi dico in maniera molto sincera che ultimamente, proprio nell'ultimo mese, mi è capitato di chiederne tante, di chiedere ad altri youtuber che sono mie amiche o mie amici, di chiedere di collaborare, ma io dico sempre cosa voglio io. Non mi permetto di dire agli altri cosa vogliono loro. Anche se lo so, anche se sono youtuber con cui ho molta confidenza, io non mi permetto di dire a loro cosa vogliono loro. Magari gli dico in maniera molto umile e molto sincera che cosa io penso di poter portare di vantaggioso al loro canale. Magari gli dico guarda tu fai, che ne so, fai video beauty, video culturali, video, che ne so, di scherzi, eccetera, io al tuo canale posso portare un po' di pubblico musicale. Ma non gli dico cosa vogliono loro. Cioè non mi permetterei mai di dirgli, oh, dato che anche tu vuoi raggiungere le top views al mese, cioè ma chi lo sa, ma non è una cosa che devo quantificare io. È come andare a fare i conti in tasca a un'altra persona. Non è una cosa, innanzitutto non è una cosa educata, ma poi non è neanche una cosa vera, perché magari l'altra persona tu non lo sai ma ha degli altri obiettivi. Io dico i miei, dico guarda mi piacerebbe fare una collaborazione col tuo canale perché vorrei raggiungere questi obiettivi, mi sono data queste tempistiche e tu mi potresti aiutare. Ti va di farlo? Te lo chiedo. Ma in maniera semplice. Cioè non cerco di venderti una cosa facendoti capire quasi che io sto facendo un favore a te. Se sono io che vengo a chiedere a te, io ti chiedo in maniera molto umile e semplice, ti chiedo di farmi questo favore, di scambiare questa cosa con me. Al di là del fatto che uno abbia mille iscritti o diecimila o centomila, vi garantisco che soprattutto per chi ha tantissimi iscritti non cambia la cosa, perché è ovvio che io che ho dodicimila iscritti, ho tante, tredicimila oramai, ho tante persone che sono sopra di me e quindi alle quali potrei chiedere. Ma chi ha centocinquantamila iscritti o quattrocentocinquantamila iscritti? Ovviamente o fa le collaborazioni con, che ne so, Stepney, Gretamenti e questa gente qua, oppure io a livello di numeri cosa gli posso portare in più. Però magari gli posso portare qualche cosa a livello di contenuti, ma questo non lo posso sapere io, lo sanno loro. A loro dirmi di sì o dirmi di no non è per una questione che conviene a loro, è per una questione che magari gli piace collaborare con me, magari lo fanno in simpatia, oppure magari lo fanno proprio perché vogliono farmi un favore e perché comunque sono persone che non hanno problemi a dedicare del tempo e dell'attenzione e a condividere con altri canali più piccoli. Ma ragazzi non glielo vado a dire io questa cosa qua, non gliela vado a mettere in bocca io come se fosse una cosa sodata ed esplicita, non mi permetterei mai di farlo. Io mi permetto di chiedere, però chiedere, soprattutto quando lo fai in maniera educata e quando lo motivi anche, perché vuoi fare la collaborazione col mio canale? Cioè, ah perché il tuo canale mi piace, perché ti seguo sempre, ok? C'è gente che ti chiede di fare la collaborazione e non sa nemmeno chi tu sia, vede che hai 13.000 iscritti, loro ne hanno mille, ah facciamo la collaborazione, ma se non sai nemmeno chi sono? Cioè, perché dobbiamo collaborare insieme? Cosa possiamo fare? E quando gli dici parliamone, fammi una proposta. Cioè, nel senso, se la proposta è inerente al mio canale, se quantomeno è una cosa bella che io posso offrire ai miei follower, ma perché no? E quando gli dici così ti dico, ah no, pensavo che me lo dicevi tu, cosa potevamo fare? Cioè, capite che non può andare avanti un discorso fatto in questo senso. Cosa numero due, monetizzazione. Allora, parliamo in maniera chiara e una volta per tutte di questo mito della monetizzazione dei video. Ragazzi, un video fa un dollaro, neanche un euro, ogni mille views di media. Una volta ogni tanto ne può fare di più, ogni tanto ne può fare di meno, ma di più non significa che fa 10 dollari, significa che fa un dollaro e 10. Per quanto mi riguarda, a livello di collaborazioni con i marchi, io per il momento sto facendo cambi merce. Quando capita, e neanche tanti. Quando li faccio, sono sempre tutti dichiarati. Ma al di là di quello, ripeto, io non lo faccio per le collaborazioni, per le monetizzazioni, eccetera. Almeno in questo momento, sinceramente, non mi cambia veramente la vita, ragazzi. Ragazzi, guadagnare un euro in più o un euro in meno, capite? Con tutto quello che ho investito, con tutto il tempo che investo per registrare i video, per editarli, per post-produrli e metterli in rete, ok? Quindi, perché, qual è il vero motivo per cui ho aperto LR Channel e sono su LR Channel? Il mio vero motivo è un motivo molto banale, che io ho ripetuto in 100.000 video. Quindi non è la monetizzazione, non è il ricevere prodotti dalle aziende. Addirittura, pensate che quando io facevo i video musicali, io ricevevo non solo i prodotti, ma anche i placement, per cui i soldini dalle aziende, che poi andavo a reinvestire nei video, ma per carità. Però voglio dire, non è che mi serviva di aprire il canale Lifestyle per avere i prodotti delle aziende, cioè ce l'avevo lo stesso. E quindi perché ho aperto questo canale? Cosa voglio raggiungere con questo canale? In questo canale io l'ho aperto per condividere quello che sono i miei valori e per fare la differenza in maniera semplice, quindi non da scienziata della situazione, non da rock star della situazione, super star o web star della situazione. Non mi interessa niente. Io ho aperto questo canale per fare la differenza nella vita delle persone comuni e mi pare che ci sto riuscendo. Fai la differenza in una persona o fai la differenza in mille persone, è ovvio che la differenza, cioè il peso di questa differenza si sente nella società, ok? Quindi se viviamo in una società dove è felice una persona su mille, è un discorso. Se viviamo in una società dove è felice mille persone su mille, è un altro discorso. Questo ne stiamo consapevoli tutti, ok? Lo capirebbe anche un bambino. Però il mio intento è quello di condividere con pienezza la gioia di questa vita. E sapete perché? Perché a me nessuno mi ha insegnato che lamentarmi e criticare continuamente era un qualche cosa che faceva vivere male me. A me nessuno mi ha cresciuto dicendomi che le bugie, sì, sono utili per tanti versi, ma fanno vivere male te. A me nessuno mi ha insegnato queste cose. A me mi hanno insegnato il contrario, mi hanno insegnato a lamentarmi, mi hanno insegnato a giudicare, mi hanno insegnato a essere sempre scontenta di quello che avevo e a cercare qualcosa nel futuro, nel domani, nel chissà. E io ho vissuto gli anni migliori della mia vita in maniera completamente inconsapevole e inconscia del fatto che tutto ciò che mi serviva per vivere una vita gioiosa, felice, per essere, per sentire la felicità dentro, era già dentro di me. E io vorrei che questa cosa non accadesse più a nessuno, ma non col metodo mio. Io vi racconto il mio percorso, ma a me piacerebbe che voi, dalla mia esperienza, provaste a guardare un punto di vista diverso per trovare il vostro personale percorso, non per utilizzare il mio. Questo è il fine del mio canale. A me non me ne frega niente. Poi è ovvio che mi fa piacere monetizzazioni, perché cavoli tutti dobbiamo pagare la corrente. Questo mese mi sono arrivati quasi 300 euro di bolletta di corrente. E sapete a che cosa si riferiscono? Perché io ho una casa piccola, per cui ovviamente non è che posso consumare chissà che cosa. Si riferiscono alle luci, alle luci proprio queste, e non posso registrare di notte, perché non è che posso fare burdel in un palazzo, in una situazione condominiale. Quindi devo per forza registrare di giorno, per cui le luci, le due lupo, il ring e quant'altro, la videocamera, il computer, il computer accesi giorno e notte, perché giustamente pubblicare un video al giorno significa montare tutti i giorni. A questo si riferiscono. Quindi capite bene che anche a me servono i soldi, anche a me fa piacere monetizzare, ma il fine del mio canale non è tanto siamo qua tutti per monetizzare. No way! Cioè non ci hai azzeccato proprio per niente. Anzi, hai fatto proprio una figura magra. Perché oltre al fatto di non azzeccarci, mi hai anche messo addosso una figura che non è la mia. E vuol dire che proprio non mi hai capita, non mi hai seguita. E non solo, ma addirittura ti sei permesso di parlarmi presumendo un qualche cosa di cui tu non sai niente. E quindi quella cosa lì, cioè, è stata proprio, cioè, se non me l'avesse scritta quella mail, sarebbe stato meglio, perché magari avremmo veramente collaborato. Perché comunque poi mi ha scritto sicuramente tanti messaggini pubblici, ho visto che segue il canale, questa persona che è affezionata al canale, ed è una persona che io seguo, perché mi sono iscritta al canale, ed è una persona che io per tanti versi rispetto e ammiro, perché si dà da fare, perché è una persona che comunque fondamentalmente nella pancia è buona. Però finché tu continui a mantenere queste strutture e la tua vita di buono, cioè, di persona buona, continua a mantenere l'impalcatura delle persone viscide, con me non avrai niente a che fare, niente di niente, perché non condividiamo insieme gli stessi valori, e non perché tu vuoi monetizzare e io no. Anche io voglio monetizzare, i miei video sono monetizzati, ma non c'entra niente questo. C'entra il fatto che io e te non abbiamo gli stessi valori, e questo vale per tutti, ragazzi. Se volete collaborare con altre persone, dovete trovare una comunanza di valori, una comunanza di intenti, dicendo i vostri, non presumendo che l'altro voglia la stessa cosa che volete voi. Questo anche nella vita, quando fate delle amicizie, quando intraprendete dei rapporti personali con delle persone, non è detto che le persone vogliano la stessa cosa che volete voi. Siate chiari, ma dicendo quello che volete voi, non presumendo quello che vogliono gli altri. Non siate presuntuosi, siate liberi, siate chiari. Sentitevi liberi di dire, io dalla vita voglio questo. Tu cosa vuoi? Domandate, prima di presumere quello che vogliono gli altri. Boh, non mi sono messa il cronometro, per cui non so quanto cacchio ho parlato. Spero di aver parlato in un po' poco, dopo mi metterò il cronometro nei prossimi video. In ogni caso, mi auguro che questo video vi abbia fatto fare delle riflessioni importanti, e vi abbia chiarito la mia posizione, e magari vi abbia chiarito anche la vostra di posizione. Vi abbia chiarito quello che è la vostra posizione nei confronti del tubo, quando guardate i video, quando li fate, se siete dei creators, e comunque quando vi rapportate con gente che fa questo anche di lavoro, ok? Vi ringrazio veramente tantissimo di essere stati con me, e fatemi sapere che cosa ne pensate, perché per me questo tema è veramente importantissimo, infatti vedete che sto dedicando più di un video a questa tematica. Nel commento, magari lasciate un cuoricino, così io capisco che siete arrivati fino a questo punto del video. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un like, iscrivetevi al canale, e attivate soprattutto le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Aller Channel. A me non rimane che invitarvi domani qui sul canale per un nuovissimo video, vi mando il solito bacio, e tantissimo, ma tantissimo amore. A me non rimane che vedi la notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Aller Channel.